L'indagine Tritone, portata avanti dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma, nei comuni di Anzio, Nettuno e Aprilia, partita nel febbraio del 2022, sta dando risultato che hanno riscontri anche in Calabria. Infatti, dopo il sequestro anticipato di Beni, finalizzato alla confisca nei confronti di Giacomo Madafferi, attualmente detenuto e ritenuto al vertice della locale di Indrangheta, Madafferi, Perronace e Gallace, sono di oggi 12 ordinanze di misure cautelari emesse dalla DDA di Roma ed eseguite dai carabinieri capitolini di Reggio Calabria nei confronti di altrettanti cittadini italiani e albanesi, accusati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di spaccio. In particolare, nell'indagine Tritone, era stato documentato come un esponente dell'Indrangheta, che aveva la capacità di importare ingenti carichi di narcotico dal Sud America, avesse espanso le proprie attività di vendita dello stupefacente dai comuni di Anzio e Nettuno ai comuni di Rocca di Papa e Grottaferrate, intrecciando qui i propri affari con quelli del sodalizio criminale. Ipotesi avvalorata dalle numerose cessioni di cocaina documentate, nonché dalla riscontrata capacità logistica della consorteria, che per le importazioni di narcotico metteva a disposizione un pilota di aereo privato e un avio superficie nel comune di Nettuno. Secondo gli inquirenti, inoltre, il gruppo criminale avrebbe puntato anche al condizionamento della vita politica locale, al controllo delle attività economiche e a quello degli affidamenti di appalti locali.